Titano come il monte che domina il piccolo stato della Repubblica di San Marino. Titano come il nome dell'operazione condotta dalla Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Ancona e che ha portato all'arresto di tre persone, una di Milano, una di Rimini e una donna originaria della provincia di Macerata che da anni non produce dichiarazione di redditi alla quale era stato sequestrato tempo fa il proprio SUV da circa 100.000 euro. Le fiamme gialle hanno scoperto un vero e proprio sistema di pianificazione truffaldino, prevalentemente nel settore dell'elettronica, finalizzato all'evasione fiscale internazionale. La merce, movimentata per un miliardo e mezzo di euro, veniva ceduta dai produttori a imprese con sede a San Marino che a loro volta provvedevano a reintrodurli nel circuito commerciale, anche della grande distribuzione, attraverso le società cartiere, 550, quelle interessate. Queste si occupavano di produrre false fatturazioni, abbattere il prezzo imponibile e non pagare l'IVA e VASA per un totale di 560 milioni di euro. Il che ha provocato una distorsione del mercato perché la merce viene venduta a prezzi concorrenziali. L'effetto è duplice. È duplice perché comporta alle organizzazioni un vantaggio fiscale, cioè il risparmio dell'IVA, e comporta anche un abbattimento del prezzo. L'abbattimento del prezzo consente poi l'immissione sul mercato del prodotto in un regime di concorrenza sleale, quindi chiaramente va a turbare il mercato. Le indagini dei finanzieri hanno rintracciato quattro aziende della provincia di Ancona esterovestite, che cioè avevano alloccato la propria sede in uno dei tanti paradisi fiscali, in particolare Lussemburgo, San Marino e Gran Bretagna.